Basta a voi considerare. Centro spirituale Frattocchie, attraverso Flora, a cura di VB. Recentemente in una seduta fu chiesto ad una entità in quale piano si trovava, e la risposta è stata la seguente. Vedete, figli cari, come sono vuote le vostre domande, in quale piano ci troviamo. Certamente per venire da noi non dovete prendere nessun ascensore, ma se voi volete avere un'idea di dove siamo, basta a voi considerare la stessa velocità del vostro pensiero, perché noi ci spostiamo da un punto all'altro ovunque. Da questa risposta si può dedurre che i piani del divino sono infiniti, mentre ogni entità in forma vibratoria si trova nel piano di luce assegnatole in rapporto alla sua evoluzione.